eccolo pronto viene lasciato tempo un secondo via ecco il secondo questo io gli do tre secondi gli do tre secondi netti uno molla la mano, intanto uno è volato e questo ora arriva in spiaggia sicuro ma perchè quella ha la corda? eh ti puoi aiutare con la corda andiamo a vedere l'altro questo è abbastanza più difficile davanti un altro ma questo è figo ma va sotto se lo sta risultiando l'ha preso, l'ha preso, l'ha preso no, vedi che ce l'ha fatta ce la fa, ce la fa ce la fa, morto, morto e si arriva a qui e se vedi